Grazie a tutti per il popolo, grande campione europea della squadra, il ventica, quarta ai giochi olimpici di Londra e quinta del campionato d'Europa di Erwin la scorsa settimana. Ma insomma, non sempre le popolo possono andare come si desidera e quindi ora la volta di Fabio Loppia su Rubina che parte da 3 in 26. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.